buongiorno amici di mercato ortale oggi con me c'è diego gianetti direttore commerciale di vicino buongiorno diego grazie buongiorno giancarlo e grazie a te dell'invito allora con te voglio discorrere di un argomento molto molto importante e interessante perché i dati di vendita dello scorso anno hanno evidenziato un numero che è 6 miliardi e mezzo adesso la dico male ma grosso modo la cifra è questa tanto non sono soldi miei e che è una cifra molto importante perché indica una crescita tra l'altro di oltre mezzo miliardo rispetto all'anno precedente e noi sappiamo che il 2021 ovviamente caro diego è stato un anno particolare che si temeva disastroso invece è stato meraviglioso credo che tu me lo confermerai questo per l'ambiente elettrico ovviamente sia assolutamente dire che arriviamo da un anno inaspettato credo che sia scontato no all'inizio dell'anno sicuramente stavamo ragionando di scenari totalmente totalmente diversi quindi è arrivata sicuramente una sorpresa positiva che ha riportato un po di ottimismo credo ci volesse perché arrivavamo da un 2020 che rimarrà che rimarrà nella storia in negativo purtroppo e quindi è chiaro che ci siamo trovati ad affrontare un anno totalmente straordinario in positivo chiaro che chiaro che molto è stato anche l'effetto rimbalzo perché non dimentichiamoci che poi 2020 abbiamo avuto praticamente quattro mesi di fermo quasi totale quindi banalmente c'erano dei lavori che dovevano riprendere quindi anche solo quello è chiaro che un contributo l'ha dato però chiaramente poi si sono sommati altri fattori che hanno generato un numero assolutamente inaspettato e imprevedibile Diego immagino anche per voi decide tutto questo ma sì direi che come dire è un aspetto molto molto generalizzato vedendo sia i dati i dati di vendita ma anche qualche qualche bilancio che per il momento sono relativi al 2020 il 2021 sicuramente farà vedere dei bilanci mi aspetto dei bilanci ulteriormente migliorati dicono questi dati dicono che insomma un po' tutti hanno avuto dei benefici dal 2021 noi dal canto nostro sicuramente siamo siamo tra questi abbiamo come dire storicamente noi sempre una duplice una duplice missione io dico sempre che siamo un po' condannati io e te portiamo gli occhiali io dico sempre che siamo un po' condannati a essere strabici in un'azienda come la nostra perché con un occhio devi guardare alla dimensione i volumi e ovviamente alle quote ma con l'altro devi guardare anche a sviluppare dei business che magari sono più emergenti dei settori che come dimensione magari hanno hanno dei volumi inferiori ma che sono quelli che ti daranno da mangiare poi in futuro e siccome noi abbiamo un dna sull'innovazione molto marcato non ci possiamo accontentare dei volumi ma dobbiamo avere un occhio anche sul sullo sviluppo del business quindi da questo punto di vista per noi 2021 ha avuto sicuramente l'aspetto della dimensione che ci ha che ci ha meravigliato quindi siamo siamo tornati per intenderci sopra il 2019 come buona parte dei dei produttori quindi questo è il segnale credo molto molto chiaro e molto forte perché cancellare un anno come 2020 insomma era tutt'altro che era tutt'altro che facile e nello stesso tempo però abbiamo mantenuto quella focalizzazione all'innovazione e soprattutto a certi business che per noi sono sono un po' cruciali insomma ecco diego però sfruttiamo manzoni che facciamo domande di ispirazione manzoniana così la mettiamo su intellettuale ma non è vero fu vera gloria perché noi sappiamo che a un certo punto si sono verificate delle condizioni particolari e in particolare l'aumento continuo dei listini che ovviamente hanno aumentato i fatturati hanno tutto quanto allora la domanda è questa cifra che si è andata a colporre è una vera gloria o è soltanto oppure tu mi spiegherai come perché è dettata dall'aumento dei listini ma ha una componente indubbiamente rilevante anche relativa alla cosiddetta inflazione no sicuramente la componente la componente aumenti i listini e prezzo come dire ha dato ha dato un contributo puoi stimarlo chiaro che ci sono comparti dove questo contributo è stato enormemente importante il caso del cavo è quello credo che sia quello più eclatante ma non credo di sbagliare tanto se dico che quasi un terzo dell'incremento che c'è stato è dovuto probabilmente alla componente alla componente prezzo poi ricordiamoci che la componente prezzo è una conseguenza perché e tra l'altro è una conseguenza relativa al fatto che sono aumentati di fatto tutti i fattori produttivi a monte e quindi è inevitabile che uno per gestire il conto economico debba in qualche modo reagire ma dobbiamo anche ricordare che se non è stato riversato per intero quello che è stato l'effetto dei delle materie prime dei trasporti dell'energia perché sarebbe stato come dire quasi inaccettabile dal punto di vista del dell'effetto sul mercato quindi è una componente che una quota parte ci è andata ma mi aspetto che anche per il 2022 ci sia un ulteriore componente che porti che porti il valore aggiunto quindi sicuramente la componente prezzo ha avuto ha avuto il suo peso sicuramente quello quello che dicevamo prima rimbalzo del 2020 la terza componente un po chiamiamola esogena è legata ovviamente anche le misure la misura che ha messo in atto lo stato con in particolare con con la manovra del super bonus ecco queste tre sono componenti che hanno dato a chi più a chi meno ovviamente grande un grande un grande beneficio credo che l'abilità sia stata aggiungerci anche un po di qualità nel senso che e credo che l'abbiamo fatto proprio anche come settore perché vedendo anche confrontandosi anche con altre aziende credo che il tema dell'efficienza sia stato affrontato da tutti chi più chi meno quindi è stata l'occasione veramente per mettere mano all'azienda in maniera un pochettino più più allargata e credo che nel nostro caso questo questo aspetto è relativo soprattutto a noi sia stata anche l'occasione per rafforzare ulteriormente il focus su sull'innovazione perché ecco una cosa che non è successa per noi nel 2020 ad esempio che non abbiamo assolutamente ridotto la percentuale del nostri dei nostri ricavi dedicata alla ricerca e sviluppo anzi è addirittura leggermente leggermente incrementata quindi abbiamo unito alle componenti come dire che ci sono state per effetto del vento chiamiamolo così abbiamo aggiunto anche delle componenti invece che sono un po nel nostro dna quindi che va che vanno a ricercare del valore nel nel nostro nella nostra nella nostra ricerca e sviluppo ecco io ho scelto di fare questa intervista ho chiesto di fare questa intervista vicino perché voi avete un catalogone ovviamente voi spaziate sui campi più diversi e a questo punto ti voglio fare la domanda siamo un po chiave della della mia intervista e cioè questa e quali sono stati scendendo nel dettaglio dei prodotti non ti chiedo cifre ovviamente ma le belle novità del 2021 cioè quei quei prodotti che per forza di cose sono schizzati verso l'alto o per ragioni dettate ovviamente dalla dalla situazione contingente oppure perché sono state delle novità che hanno creato queste belle performance ma allora indubbiamente il tema della digitalizzazione si traduce anche in necessità di maggiori infrastrutture e maggiori come dire prodotti legati al tema del digitale quindi tutto quello che è legato alla digitalizzazione negli edifici chiaramente ne ha avuto un grosso beneficio a partire dal dal mondo dei data center su cui noi siamo da da qualche anno e stiamo sicuramente siamo sicuramente progredendo in questo in questo settore chi più chi meno oggi le aziende hanno hanno bisogno di gestire una mole di dati decisamente superiore al passato e quindi si devono dotare di infrastrutture di quel tipo ma anche per arrivare come dire a componentistica più legata magari a domestico dalla fibra ottica piuttosto che ma anche il come dire la il mix all'interno dell'abitazione probabilmente è destinato a evolvere nella direzione anche del digitale quindi anche tutti tutti i componenti che abilitano anche banalmente lo smart working da casa hanno un'implicazione anche sul 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 mix che viene venduto all'interno all'interno dell'abitazione quindi c'è questo grande filone del digitale che sicuramente sta marciando a un ritmo superiore alla media e poi chiaramente per noi grande attenzione perché è uno dei nostri focus principali sulla parte di smart home che è un è sicuramente un settore che sta che sta incrementando notevolmente a livello anche proprio di interesse sul consumatore finale di di qualche settimana l'ultima l'ultimo 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 dato che è uscito dall'osservatorio il Politecnico che è quello che noi consideriamo come dire più 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 affidabile dal punto di vista delle stime sulla smart home il 2021 esce assolutamente in maniera brillante su questo settore siamo arrivati a un mercato che vale circa 650 milioni con un progresso del 30% tra l'altro un incremento che è stato fortemente limitato proprio dal fatto di avere qualche problema a reperire il materiale le materie i componenti la componentistica elettronica perché la stima che faceva il Politecnico che senza questo problema quel più 30 sarebbe diventato un più 45 quindi sicuramente un settore in grande emergenza che sta emergendo in maniera piuttosto evidente dalla media del mercato una consapevolezza del consumatore perché poi Politecnico ci aggiunge sempre anche un'indagine che fa sul consumatore per capire quanto l'interesse sul sul tema della smart home sta aumentando e i dati devo dire che sono assolutamente confortanti perché se non ricordo male il 76 per cento della degli intervistati dichiara di conoscere la smart home e di sapere di cosa si tratta era sotto 50 per cento fino a due anni fa non solo quasi 50 per cento degli intervistati ha in casa almeno un oggetto connesso quindi inizia a diventare un mercato come dire molto più maturo rispetto a quello che era di qualche anno fa è chiaro che averci investito in maniera importante sia sulla comunicazione che sui prodotti ha aiutato è stato chiaro che ci sono dei settori che hanno portato interesse anche alla smart home quello degli assistenti vocali sicuramente ha aiutato a far capire che l'assistente vocale per essere utile ha bisogno di altri componenti all'interno dell'abitazione che possano interagire con quel tipo di supporto e quindi ha portato come dire un livello di attenzione sulla smart home decisamente superiore agli altri settori la cosa ancora più interessante proprio su questo su questo mondo che nell'ultimo anno del 2021 come puoi immaginare gli oggetti della smart home sono tanti non si vendono solo sul canale professionale però il canale professionale è quello che è cresciuto di più nel 2021 è cresciuto del 40 per cento quindi questo è un segnale credo molto importante perché significa che anche il consumatore inizia a capire che per avere un buon sistema di smart home hai bisogno comunque di un professionista che ti venga in casa e innanzitutto ti crei un'infrastruttura poi è chiaro che magari il singolo oggetto lo puoi anche aggiungere però intanto hai bisogno di un'infrastruttura e credo che questo segnale sull'incremento del canale professionale per la smart home sia un segnale molto forte che negli altri anni non c'era stato e quindi per noi è ovvio che sono tutti segnali che ci confermano che l'evoluzione che stiamo cercando di portare inizia ad arrivare anche a terra quindi prosaicamente per riportarti a terra anche la signora Maria si è evoluta e se ne parli di luce e di aria che la fanno vivere meglio è molto contenta la signora Maria vero? assolutamente la sensibilità è aumentata tantissimo da questo punto di vista e quindi le funzioni è chiaro che ci sono funzioni che vengono percepite maggiormente di solito in queste indagini ad esempio emergono molto il tema della sicurezza e il tema della termoregolazione che sono due tematiche però iniziano a esserci anche altre sensibilità hai toccato il tema della qualità dell'aria ma anche banalmente la misura dei consumi che è oggi già una funzione assolutamente presente nella nostra offerta nell'offerta anche del mercato ed è ancora poco conosciuta quindi la signora Maria con l'aumento oggi dell'energia elettrica e in generale di tutto quello che è mondo energia insomma un po' più di sensibilità a misurarli questi consumi c'è e quindi la tecnologia è già disponibile sta un po' a noi anche far conoscere quelle che sono le potenzialità perché è chiaro che in qualche caso è più semplice, più facile l'esigenza c'è già da un po' di anni in qualche altro caso invece bisogna trovare gli argomenti giusti per far percepire come nel caso ad esempio della misura dei consumi che è una tecnologia che è già presente ed è totalmente affidabile quindi sta a noi portare poi noi intendo come filiera quindi non solo i produttori ma anche chi sta a valle la distribuzione gli installatori stessi su cui noi investiamo tantissima informazione dovremmo far capire che esistono già delle funzioni che sono disponibili e quindi sta a noi spiegarle apriamo una piccola parentesi che ho paura sia un po' triste nel senso che mi dicono che il 2022 nel mese di gennaio non è iniziato benissimo nel senso che la questione degli approvvigionamenti sta diventando pesante ma secondo te è un fenomeno oppure soltanto una particella che si chiuderà in breve tempo? è un fenomeno soprattutto in alcune in alcune in alcuni settori chiaro che la componentistica elettronica è un problema oggi ed è un problema globale non è un problema italiano o europeo quindi è chiaro che la carenza di materiale elettronico di componentistica elettronica dei problemi li sta generando poi sulla partenza all'inizio dell'anno credo che ci sia da un po' da approfondire perché ci sono anche altri aspetti che potrebbero incidere qualcuno lo stiamo un po' scoprendo in questi giorni banalmente si stanno un po' cambiando le regole del gioco sull'accesso agli incentivi del super bonus stanno diventando come dire i problemi che ci sono stati anche un po' di abuso hanno creato una stretta anche dal punto di vista proprio della modalità delle regole e questo probabilmente inciderà soprattutto sulla ristrutturazione tanto è vero che Ance ad esempio sembra che stia già rivedendo i propri numeri al ribasso soprattutto sulla sua ristrutturazione perché è ovvio che buona parte della crescita dell'anno scorso aveva dietro un meccanismo legato al super bonus che sicuramente stava spingendo moltissimo la ristrutturazione ecco questo, queste regole un po' nuove sembrano aver creato qualche difficoltà in più all'accesso e quindi può essere che un impatto ce l'abbiano insomma quindi è un'altra attenzione da avere perché è chiaro che cambierebbero un po' i presupposti a questo punto Per concludere ti vorrei chiedere una tua opinione sul futuro insomma procederà, progredirà questa situazione positiva e più che altro quali saranno le tematiche che voi in particolare e pensate di cavalcare per continuare ad andare nel modo migliore? Allora, se proseguirà è chiaro che un altro anno come il 21 come dire, credo che sia dura leggerlo però sicuramente io mi aspetto continuità noi siamo in un settore che comunque pur nelle situazioni specifiche di contesto ha sempre manifestato una certa stabilità dal punto di vista diciamo economico quindi chiaro che ci si può aspettare un maggior beneficio come diciamo prima magari dal super bonus piuttosto che un rimbalzo che non può più essere quello del 2021 però siamo comunque in un settore che una certa stabilità l'ha sempre dimostrata quindi non mi aspetto scossoni troppo importanti le aspettative che abbiamo noi sono un po' legate alla duplice visuale che ti dicevo prima quindi da un lato la dimensione complessiva che per noi è fondamentale preservarla ma è altrettanto importante preservare anche quella componente di valore che noi cerchiamo costantemente quindi sicuramente porteremo prodotti nuovi sul mercato sicuramente continueremo a raccontare e a cercare di portare la smart home a una popolazione innanzitutto di impiantisti la più ampia possibile poi è chiaro che ci sono altri settori che non possiamo non vedere che stanno incrementando in maniera piuttosto chiara ed evidente quello della mobilità elettrica per citarne uno è ovvio che è uno dei settori che anche in Italia sta manifestando tutto il potenziale e noi ci siamo non siamo gli unici chiaramente stiamo incrementando anche la forza sul mercato da questo punto di vista quindi sicuramente ecco tutto il mondo legato all'efficienza a tutto quello che è efficienza energetica è sicuramente uno dei filoni che ci aspettiamo che cresca di più e su cui ci stiamo diciamo preparando di più quindi ottimista per il 2022 come è giusto esserlo con qualche cautela cercando di capire i fenomeni che dicevi tu dei primi del primo mese o del primo mese e mezzo capirli bene e cercare di affrontarli nel modo nel modo migliore con tutta la filiera perché poi è importante anche gestirlo all'interno della filiera insomma Bene, grazie Diego Giannetti direttore commerciale di Viticino ti ringrazio per le importanti e belle parole che hai detto per arricchire la giornata di mercato totale grazie Diego Grazie a te e un saluto anche a tutti i tuoi ospiti grazie, ciao Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te